Al palapoggetti di Cecina si gioca per allontanarsi dalle zone a rischio della classifica. I play-out distano appena due punti. Di fronte si ritroveranno i padroni di casa di coach Bandieri e la Valentina Sbottegone. I gialloneri di Biagini saranno ancora in formazione rimaneggiata per la sicura assenza di Marco Nato, per lui due mesi di stop. Dubbi sulle presenze di Divac e Maspero, mentre Siracov ha recuperato dall'influenza. Stiamo attraversando un momento di sfortuna perché l'ultima partita senza Siracov, senza Maspero, abbiamo perso durante la partita Marco Nato. Quindi senza dubbio dobbiamo guardare a quello che succede in casa nostra. Com'è per il momento la situazione? C'è il recupero di qualcuno? Senza dubbio Siracov che dovrebbe essere uscito dal virus, Maspero ancora penso un paio di giorni. Cessina è una squadra che sta giocando con alti e bassi, forse più bassi quest'anno. Sì, senza dubbio, però sono in netta ripresa anche perché loro hanno giocato l'ultima parte del girone d'andata senza due giocatori importanti come Bruni e Salvadori. Adesso hanno recuperato tutti quanti, quindi non per ultimo Salvadori che ha giocato un'ottima partita a Torino, che hanno perso solo di due punti giocando una super partita. Quindi insomma sono sicuramente al completo e al 100%. Come si fa a tornare a casa inganni? Sicuramente facendo un'ottima partita, come dico sempre, attento a tutti i particolari e dando sempre il 100%. Poi il campo ci dirà delle risposte, senza dubbio di ripetere o provare a ripetere la prova contro Samignato che è stata straordinaria nonostante tutte le defizioni prima e in corsa, quindi ci proviamo al 100%.